Stiamo a posto ora, non ti preoccupate, mai ti imparate meglio in Napoletà. Non hanno visto mai maro più in Napoletà. Non ti preoccupate, non ti preoccupate, non ti preoccupate. Non ti preoccupate, non ti preoccupate. Stai facendo la cosa, non ti preoccupate. Ha valito a posto 2 euro, ha già papà 45 euro. Passiamo a otto. Signorina, cosa è? Passa, va. Oh, è un fratello. Grazie.